Dalla lettera di San Paolo Apostoli Colossesi Con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. È in Lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate della pienezza di Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. In Lui, voi siete stati anche circoncisi, non mediante una circoncisione fatta da mano d'uomo, con la spogliazione del corpo di carne, ma con la circoncisione di Cristo. Con Lui sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti, mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con Lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi, che con le prescrizioni c'era contrario. Lo ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce. Avendo privato della loro forza i principati e le potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, triunfando su di loro in Cristo. Buono è il Signore verso tutti. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il Tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il Tuo nome in eterno e per sempre. Buono è il Signore verso tutti. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La Sua tenerezza si espande su tutte le creature. Buono è il Signore verso tutti. Ti lodino, Signore, tutte le Tue opere e Ti benedicano i Tuoi fedeli. Dicano la gloria del Tuo regno e parlino della Tua potenza. Buono è il Signore verso tutti. Dal Vangelo secondo Luca In quei giorni, Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i Suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome di Apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di Suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza, che guariva tutti.